Siamo lieti oggi di aver organizzato questa bellissima giornata, diamo un benvenuto a tutti, questa giornata per la consapevolezza dell'autismo. Io sono qui con la consigliera Raffaella Maresca e è un tema di stabilizzazione per noi molto importante perché molte persone che non vivono queste situazioni o queste realtà non conoscono purtroppo questa problematica sulla quale oggi noi abbiamo cercato di sensibilizzare. Quindi diamo il benvenuto a tutte le persone che sono qui, a tutti i bambini, a tutti i genitori e adesso lascio la parola alla consigliera Maresca che può anche lei dare un saluto e benvenuto a tutti. Grazie sindaco. Allora siamo consapevoli che c'è sempre molto da fare su queste tematiche ma questo è un primo approccio per sensibilizzare la popolazione all'inclusione. Grazie.